Nuovo innesto in casa Tecno Switch, Talos Basketruvo alla vigilia dell'esordio di Monteroni, la squadra bianco-azzurra, Tessera, Mattia Marchetti, proveniente dall'esperienza con Ludas Cerignola in Serie B, uno che conosce molto bene questo campionato, che ha vinto la C-Gold con la maglia dell'Udas e arriva a Ruvo con grandi motivazioni. Benvenuto a Ruvo di Puglia, con grande entusiasmo, ti trovi proprio nella settimana decisiva, questo start di domenica prossima? Sì, è bellissimo, sono arrivato lunedì, abbiamo iniziato subito ad allenarci, ora mi aspetta una settimana forse un po' più difficile degli altri, sono leggermente indietro a livello ovviamente di tactica e tecnica perché non ho iniziato con loro, però sono fiducioso che domenica andremo subito bene. Per te, qual è stata la motivazione principale che ti ha portato qui a Ruvo di Puglia? Io conosco Valerio, conosco Nicola, quindi sapevo che la squadra è per vincere il campionato e quindi queste sono le motivazioni, non serviva altro. Che idea ti sei fatto del roster? Il roster è super, dobbiamo ovviamente amalgamarci un po', ripeto, ho fatto solo due allenamenti, però conosco quasi tutti i ragazzi e l'obiettivo è vincere, possiamo farcela benissimo. Conosci le difficoltà del basket giocato in Puglia, di questa grande competizione che troveremo da domenica in poi? Sì, io due anni fa ho vinto questo campionato, l'abbiamo vinto, so che è un campionato molto difficile fisico, però vedendo la squadra, vedendo i ragazzi, ripeto, siamo pronti ad affrontarlo tranquillamente.